Serale Amici 2023, nuovi giudici Anna Pettinelli potrebbe tornare con Emma. Chi saranno i nuovi giudici del Serale di Amici 2023? Quali saranno le squadre che prenderanno parte a questa 22esima edizione? Manca sempre meno all'inizio della fase più attesa del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. Anche quest'anno lo show reserverà un po' di sorprese e colpi di scena, e per quanto riguarda i giudici. Potrebbe esserci un rimpasto rispetto alla giuria delle ultime due edizioni. Tra i nomi in lizza spicca quello dell'ex prof di canto Anna Pettinelli, la quale potrebbe rimettere piede in trasmissione in una veste inedita. L'appuntamento con il Serale di Amici 2023 è confermato su Canale 5 a partire da marzo 2023. Il talent show sarà in onda sempre di sabato sera e quest'anno Maria De Filippi dovrà vedersela contro il cantante mascherato, lo show condotto da Millie Carlucci. Una sfida audite che si preannuncia particolarmente agguerrita, tale da poter spingere la padrona di casa di amici e da portare un po' di cambiamenti al suo talent show. Al centro dell'attenzione potrebbe esserci in primis un possibile cambio giuria, rispetto ai giudici visti nel corso delle ultime due stagioni, non si esclude un totale cambiamento. Sia Stefano De Martino che Emanuele Filiberto di Savoia, in una serie di recenti interviste, hanno messo in dubbio la loro partecipazione alla ventiduesima edizione del talent show. I due potrebbero non esserci nella giuria dello show, dove potrebbe esserci spazio per l'arrivo dell'ex insegnante della scuola Anna Pettinelli. Secondo le indiscrezioni che circolano in rete e sui social, la prof potrebbe ritornare ad Amici 2023 ma in una veste del tutto diversa rispetto a quella vista nelle precedenti edizioni. In attesa di scoprire se questo ritorno si concretizzerà per davvero, Anna Pettinelli sarà ospite in trasmissione nel corso della puntata del 29 gennaio per giudicare la sfida di canto di questa settimana. Tra i nomi in lizza per il serale di Amici 2023 spicca anche quello di Emma Marrone, anche in questo caso si tratterebbe di un ritorno in scena. Dato che in passato è stata una delle coach. Per quanto riguarda le squadre del serale, invece, non si esclude che si possano riconfermare gli accoppiamenti dello scorso anno. In tal caso Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro tornerebbero a gareggiare insieme. Così come ci erbi con la prof. Alessandra Celentano. La nuova copia, invece, potrebbe essere composta da Risa e di Maniurlo. Azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel Trage de mine caracterul meu de fier Că baie, ploaie, vând, niciun curcubeu Dar ce că toate astea-s doar în capul meu Și-mi zice du-te, nu mai sta Tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja Arunca-ți toate visele într-o geantă și pleacă Nu grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva Închide ochii-ți poți imagina Că lumea e a ta și-n plus Poți să sari sus, 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 sus Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei N-au avut hava Când e sus, când e sus, când e sus, când e sus Pot eu să sar Acum genu